Magari riuscirete poi anche voi a riempire le sporte, no? Come sta facendo in questo momento Roberto di Cascina Caccia. Andato a fare la spesa in Cascina? Sì, andato a fare la spesa in Cascina. Che cosa ci ha portato? Che cosa producete allora? Allora, i prodotti per adesso sono il miele che viene interamente prodotto. Mi fa vedere la confezione, perché io sono un po' curiosa, eh? Così voglio vedere com'è. Allora, miele biologico, eccolo qua. Dai terreni confiscati alle mafie, c'è proprio scritto sopra, eh? Quindi, insomma, ma si trova solo da voi? In questo momento si trova da noi, si trova in Corso Trapani, nella bottega dei Saperi di Sapore e il Gruppo Bele. Ah, ecco. La produzione quest'anno, il primo anno, non è stata molto alta. Vicino a dove è la fabbrica delle E? La fabbrica delle E in Corso Trapani. Corso Trapani 91. Non è stata una produzione enorme per il primo anno, per noi era un inizio e quindi il prossimo anno pensiamo di aumentare questa produzione. Poi un altro prodotto è invece il torrone. Ah, il torrone. Il torrone. Questo è fatto con il miele di cascina caccia, ma è realizzato dai ragazzi dell'Istituto Beccari di Torino, che è una scuola alberghiera. E questo è un buon esempio di come riusciamo a collaborare e coinvolgere i ragazzi delle scuole. Perché un conto è andare a parlare di legalità e un conto è dare la possibilità di mettere le mani in pasta, nel vero senso della parola, cioè concretamente fare qualcosa. C'è pure scritto prodotto e confezionato nell'ambito dell'attività didattica da Istituto Beccari. E questo, soprattutto il miele, è il primo prodotto a marchio Libera Terra del Nord Italia, perché tutti gli altri prodotti, la pasta, l'olio, insomma, sono prodotti nei terreni confiscati al sud. E' bello anche il packaging. E poi? E poi c'è un'altra confezione di miele, questo è il Tris, che patiene millefiori melate a caccia. Sono le tre tipologie che vengono prodotte dalle nostre api in cascina. E acquistandolo si sostiene? Si sostiene il progetto della cascina, perché appunto, come dicevo prima, la difficoltà per le associazioni che hanno in gestione i beni confiscati è quella poi di mantenerli vivi, tenerli attivi e pagarsi le spese di gestione. Che sono tante. E questo è l'unico modo per cui potete, grazie al quale potete sopravvivere? Beh, per fortuna c'è il sostegno della cittadinanza, c'è la legge 14 della Regione Piemonte che sostiene i beni confiscati. La Regione Vale d'Aosta... Ma li sostiene in maniera corposa? Beh, ci ha permesso di fare alcuni lavori importanti di ristrutturazione. La Regione Vale d'Aosta ci ha dato un grosso contributo perché non ha beni confiscati nel suo territorio e ha voluto comunque impegnarsi nel sostegno dei beni confiscati e il procuratore Bruno Cacci è stato procuratore di Aosta. Quindi si è creato questo legame che ha permesso già nello scorso anno da molte scuole della Vale d'Aosta di venire a fare un'esperienza di una giornata in cascina. Quindi incontrarci e fare dell'attività pratica perché poi noi cerchiamo sempre di dare un risvolto concreto all'attività che facciamo, non solo parole. E' bene comunque sostenere, no? Sostenere queste attività e quindi insomma ci sono molti modi per farlo. Uno è appunto acquistare i prodotti ma non solo. I cittadini come si comportano nei confronti di queste realtà? Per quanto riguarda Volvera molto molto bene nel senso che sono stati tutti entusiasti di questo nuovo progetto e da subito, già dal 2004 insomma, si è subito creata una bella sinergia con i cittadini per cui hanno fatto una marcia sul bene confiscato. Spesso ci sono delle cene della legalità per raccogliere fondi. Un comune lì vicino ci ha dato una mano per ristrutturare il bene. Insomma si sentono coinvolti, no? Sì, molto. Addirittura il preside di Volvera quest'anno dell'Istituto Comprensivo Materno Elementare Media ha coinvolto tutte le classi di tutta la scuola per fare questo progetto. Allora, avete sentito queste due esperienze che rischiano però di fermarsi poi a un certo punto. Perché? Perché, vabbè, e cosa succede? Allora, fino a ieri c'erano dieci anni di tempo Mattia, non mi dica se sbaglio per decidere a chi assegnare il bene confiscato. Giusto? Dieci anni. Adesso però con la nuova finanziaria, giusto? La finanziaria dice che questa assegnazione deve avvenire entro sei mesi. Dopodiché, se questa assegnazione non avviene il bene viene messo in vendita e dunque chiunque può acquistarlo e i soldi vanno allo Stato. Allora, in pratica, oggi questi beni appartengono al demanio, no? Sono di tutti, diceva prima. E invece con questa legge qual è il rischio? Che si rompe la favola bella. Che si rompe la favola bella, una delle favole più importanti perché più credibili che noi possiamo raccontare in tutta Italia e cioè che ciò che viene tolto ai mafiosi non serve per fare business, non serve per far guadagnare qualcuno. Ciò che viene tolto ai mafiosi diventa cosa di tutti, cosa della Repubblica, cosa dello Stato, patrimonio indisponibile dello Stato. Poi ci sono i cittadini organizzati che si rimboccano le maniche e fanno dei bei progetti di riqualificazione sociale, di utilizzo sociale di questi beni, ma questa roba tolta alle mafie diventa patrimonio dello Stato. Questo è il principio importante, bello, che ti fa toccare con mano uno Stato che vince, una legalità che conviene, il principio bello che sta nella legge. Se invece tu, dicendo che si fa fatica ad assegnare i beni, a trovare dell'utilità sociale per questi beni, tagli la testa al toro, prendi la scorciatoia, li metti all'asta e li vendi, corri due rischi, il primo, che se li ricomprino i mafiosi attraverso i prestanome, il secondo, che spezzi quella favola bella, la morale della favola diventa un'altra, che in questo paese, pur di fare soldi, ti vendi anche i beni confiscati ai mafiosi. Allora certo che c'è un problema, certo che c'è un problema, dieci anni sono tanti, sono un tempo infinito, noi lo sappiamo bene, perché quando poi dopo dieci anni ti prendi questi beni, spesso sono dei ruderi, come diceva Anastasia, ma allora insomma, se uno ha un dito del piede infiammato, che fa? Si taglia la gamba o cerca di curare il dito? Certo che il processo è troppo lungo, ma allora lo Stato avrebbe dovuto e potuto potenziare gli strumenti che ha per accelerare i tempi dell'assegnazione, per trovare maggiori fondi per il rutilizzo sociale e invece di fronte a un dito infiammato si trova la scusa per tagliare la gamba. Ma anche perché parlando di sei mesi, insomma voglio dire, è proprio come dire no, non vogliamo più il rutilizzo sociale. È molto difficile, è molto difficile, per come funzionano questi percorsi, è molto difficile che entro i sei mesi si arrivi all'assegnazione. Normalmente quanto occorre? Normalmente occorrono anni, quindi... Ma anni quanti? Non dieci, presumo? Eh beh, poco di meno. Ma perché ci sono tutte delle pratiche lunghe, burocrati? Perché i tempi sono lunghi e poi per un motivo, per un motivo molto concreto. I mafiosi sono quasi sempre supportati loro da avvocati molto ben pagati. Di fronte agli atti amministrativi che impongono la confisca e soprattutto la liberazione del bene, questi che fanno ricorso al TAR. Eh beh, tra l'altro poi... Normalmente, aspetta che finisco, e cosa fa normalmente il TAR? Concede la sospensiva. Quindi da quel momento in avanti viene tutto bloccato e passano anni perché si superino questi ostacoli amministrativi. Per carità, legittimi, ci mancherebbe ancora, ognuno si difende come può, ma lo Stato dal canto suo potrebbe dispiegare ben altri strumenti e forza per risolvere le situazioni e quindi andare avanti invece. Un po' come era successo a Cascina Caccia, no? Certo. Ecco, che la famiglia era rimasta... La famiglia ha continuato a vivere all'interno della casa nonostante il decreto di confisca. Appunto. Per anni, immagino. Per dieci anni. Per dieci anni. Ah, ecco, vabbè. Per dieci anni. Senta, ma esiste una soluzione? No, la legge ormai dice così. Come... Quando le leggi vengono fatte bisogna rispettarle fino a che non se ne fanno di altre di migliori. Quindi quando parliamo di difetti normativi, l'unica cosa che ci resta da fare è rimboccarci le maniche e tornare a fare tutta la pressione politica di cui saremo capaci perché quelle normative vengano modificate, vengano migliorate, vengano superate. Buon lavoro allora. Grazie. Grazie anche a voi per l'impegno e anche per l'entusiasmo, no? Che ci mettete nella vostra mission. Grazie ancora. Ci fermiamo, c'è la pubblicità a pochi istanti, ma torniamo subito. A sempre là. Ok. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.